qual è il sforzo? vedi il matrimonio vedi il matrimonio vedi il matrimonio vedi il matrimonio prendi il 209 prendi il 29 prendi il 29 ma lo faccio a punto mi dava bene anche il 29 ma c'era proprio la media ma sto al 27 i 3 i 3 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.